Ben ritrovati qui dal Caffè della Versigliana di Marina di Pietrasanta, siamo con Salvo Sottile, stiamo presentando il libro Notte Fonda, edito da Rai Libri. Ecco, io vorrei proprio partire da questo libro per andare ad approfondire un po' meglio il contenuto di questa cosa che hai creato, che hai composto. Tu hai realizzato un format televisivo che si chiama Prima dell'Alba, dove vengono raccontate un sacco di storie notturne, cioè quel tipo di storie che si sviluppano quando la maggior parte di noi sono a nanna, stanno riposando. Ecco, c'è stata qualcuna di queste storie che hai raccontato che ti hanno dato il là, che ti hanno ispirato proprio la scrittura del libro? Beh, sì, tutte le storie che ho raccontato mi hanno ispirato per fare questo romanzo. Abbiamo anche la musica di sottofondo, quindi insomma, che ci accompagnano, che ci accompagnano. Ciao. Devo dire che tutte le storie che ho raccontato mi hanno ispirato e mi hanno convinto a fare questo raccontone, un romanzo in cui si tira fuori l'umanità, l'autenticità di tutti i personaggi, a differenza di Prima dell'Alba, che è una galleria di personaggi, di storie, in cui io mi tuffo per cercare di tirare fuori storie inusuali, storie di un certo tipo, storie curiose. Questo libro cerca di analizzare diversi temi del nostro mondo, il mondo che cambia, il mondo del lavoro che è cambiato, affronta dei temi quali la ludopatia, la violenza sulle donne, sono tutta una serie di temi che vengono tirati fuori attraverso lo specchio riflesso che i personaggi tirano fuori dalle loro storie. Mentre io a Prima dell'Alba sono un spettatore, diciamo, inconsapevole di quello che guardo, non giudico mai, faccio un passo indietro rispetto alle storie, in questo libro, in questo romanzo, l'antefatto è che io mi riposo, e sono un protagonista involontario di tutta questa galleria di personaggi che si compongono nella notte per arrivare a un'Alba, che è solo un modo di tirare fuori le loro gabbie e cercare di aprirle. Hai parlato di ludopatia, hai parlato di violenza sulle donne, c'è qualche disagio tra questi che stimola di più la tua sensibilità quando racconti questo tipo di storie? Beh, di notte, noi pensiamo che la notte sia qualcosa di lontano, di pericoloso, forse l'innesco che ce la fa apparire così distante, così oscura, è la paura. La paura è diventato un motore, un innesco fondamentale che ormai troviamo nella politica, se ci pensate, nella tv. Tutti insistono sulla paura per darci la sensazione che abbiamo sempre bisogno di stare coperti, protetti, anche rispetto alla notte. In realtà la notte invece è una dimensione altra rispetto al giorno, dove ci sono persone che lavorano, persone che si divertono al loro modo, persone che soffrono, persone che sperano e persone che sognano. In questa notte ho cercato di vedere che cosa c'è sotto, non mi sono fermato alla superficie e ho capito che la notte è una sorta di coperta calda sotto la quale ci sono tutta una serie di umanità che vale la pena tirare fuori. Ecco, hai parlato di paura. Io voglio ricordarlo, tu hai cominciato giovanissimo come giornalista con le stragi di mafia in Sicilia. Nel tuo lavoro, che è anche legato al giornalismo di inchiesta, hai mai provato paura per quello che stai facendo? L'ho provata e l'ho provata appunto in Sicilia nei primi anni 90. Io ho iniziato a fare il giornalista per caso perché in realtà facevo l'operatore di matrimoni perché era un modo per riuscire a sbarcare il lunare. Il videomaker. Il videomaker dei matrimoni, perché in Sicilia si sposava tanta gente, quindi era un modo per tirare su qualche soldo e permettermi di poter studiare. In realtà ho iniziato a lavorare nelle piccole televisioni locali così, cioè con una voce che riprendeva delle cose e le commentava. Quando iniziai a diventare qualcosa in più di questa voce, mi chiamarono da Mediaset per chiedermi se volevo fare l'informatore, ma ero troppo piccolo, avevo 18 anni. Era il 1991. Il 1992 fu l'anno più orribile per la Sicilia perché segnò l'assalto dei Corleonesi di Riina ai due nemici giurati di Cosa Nostra, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Giovanni Falcone era un uomo che non sempre era amato in Sicilia. La mafia utilizzò 600 chili di tritolo per far saltare 800 metri di autostrada, tantissimi. E quindi in quel momento mi ritrovai da solo in un luogo in cui dovevo non solo fingere di essere più grande della mia età, ma mi si chiedeva qualcosa che non avevo mai fatto, mettermi davanti a una telecamera e raccontare quello che vedevo. Quindi per me, che ero un ragazzino sempre abituato a stare dietro la telecamera, quella cosa fu l'inizio probabilmente del mio lavoro, ma anche una sorta di spartiacque tra il mio essere siciliano e il dolore che provavo per la morte di un eroe, lo stesso dolore l'avrei provato per la morte di Borsellino, e il mio diventare grande. Salvo, tu hai parlato di storie con notte fonda, storie notturne. Una curiosità, questo libro l'hai scritto di giorno o protetto dal mantello della notte? L'ho scritto di pomeriggio, perché io di notte giro e quindi non posso scrivere, perché giro fino all'alba. E la mattina faccio Mi manderei tre, che è un programma che si occupa di consumi ed è in diretta, è un programma che si occupa di piccole cose, sia Mi manderei tre, che prima dell'alba sono due programmi speculari, perché significa, come dire, volgere un orecchio verso chi non ha voce. La mattina verso le persone che hanno un bisogno, che hanno un dubbio da chiarire sul tutto questo mondo dei consumi, che ormai è pieno di insidie, di truffe, basta accendere il cellulare e se ne trovano tantissime. E poi la notte, perché tutte queste persone, questa grande umanità che ho incontrato, strana, stravagante, eccetera, ma aveva un grande desiderio, poter essere ascoltata, poter far sentire la propria voce. E siccome di notte non ci sono tanti programmi che si occupano di raccontarlo, ho cercato di farlo con Prima dell'alba. Il romanzo è un romanzo che cerca di farci guardare dentro noi stessi, perché noi siamo pieni di gabbie, proprio per il motivo che spiegavo prima. Spesso ci chiudiamo in una gabbia, per la paura, per la paura di conoscere il diverso. Questo libro comincia con un antefatto, cioè io mi prendo una borsettata in faccia da una signora, perché in realtà un ragazzo che cerco di difendere troppo scuro nella scala colorometrica per questa signora per essere una persona per bene, sembra in realtà a questa signora che la voglia rapinare. E quindi questa signora nel gesto che fa cerca di andare avanti, scavalla un tempo di più e gli dà una borsettata mentre io me ne accorgo, lo paro, ma la prendo in faccia. E da lì questo ragazzo torna a prendermi di notte con una donna, con una ragazzina, e inizia a raccontarmi questa lunga storia che mi farà entrare in questa profonda galleria di personaggi che si conclude poi all'alba. Anticipo che tra poco saranno a disposizione i libri di salvo per chi volesse acquistarli, lui si immolerà dopo nel firmacopie per chi li volesse. Proprio relativamente al libro, io ho notato una forma comunicativa sicuramente spiccata, c'è un po' di pennino intinto nel giornalismo, ma volevo sapere da te qual è la forma creativa che ti senti più vicino in questo periodo, nel senso che tu sei conduttore televisivo, giornalista e oggi sei in veste di scrittore. Dove ti senti più a tuo agio? Ma in realtà tutte le cose che hai detto fanno parte di un comune denominatore, cioè quello che racconta delle storie. Il raccontatore di storie può essere un conduttore televisivo, può essere un giornalista e può essere uno scrittore. Io sono uno a cui piace raccontare storie, piace sentirle, perché la curiosità credo che sia il motore principale che ci muove, mi ha sempre mosso fin da quando ero piccolo e continuo a farlo. Quindi se ho fatto questo percorso l'ho fatto proprio per questo. Nottefonda è questo viaggio nel mondo della curiosità, troverete sicuramente tanti spunti in cui vi potete immedesimare, perché i personaggi sono molto simili alle nostre vite, a quello che passiamo ogni giorno. Chiedono solo di essere ascoltati e di essere liberati, ecco perché Nottefonda è un romanzo, perché in realtà c'è un percorso preciso che porterà ogni personaggio a chiudere verso un'unica via di uscita. Non vi dico quale, se no poi non leggete. Certo, certamente. Ecco, parlando tu di notte, ho pensato di fare una domanda nello stile di un altro personaggio notturno che è Marzullo. Quindi una domanda marzulliana che mi sono annotato. La notte è una dimensione dove sentirsi più liberi o è una prigione da cui liberarsi? Dipende dai punti di vista, può essere entrambe le cose. È una prigione anche da cui liberarsi, mi riferisco per esempio a quelli che cercano di usare la trasgressione anche come forma e come viatico per uscire fuori da una gabbia che li opprime. Spesso si pensa che la trasgressione sia qualcosa che ha a che fare col piacere, col sesso. Ebbene, nei viaggi notturni che ho fatto, e in questo Nottefonda tira fuori molto di questa storia, la trasgressione è qualcosa che assomiglia a una carezza della paura, della morte. Perché molti usano quasi la morte come qualcosa da cui, non solo scappare, ma qualcosa da sfidare. La accarezzano, la vogliono accarezzare per trasgredire. E tutti quelli che ho incontrato e a cui ho chiesto perché lo hanno fatto o perché lo fanno, mi rispondono per affrontare la paura del giorno. Come se il giorno, la routine, questa vita frenetica che facciamo fosse troppo serrata per poterci permettere il lusso di vivere una notte serena. Abbiamo bisogno spesso di sconfinare fuori dalla nostra vita nel cercare un altro sé, che poi arriviamo anche a immaginare una sorta di doppia vita. Io la mia doppia vita ce l'ho, perché la mattina mi manderei tre, di notte faccio prima dell'altro. Ma c'è chi ha doppie vite diverse. Ma io infatti sono rimasto stupito nell'approfondire il personaggio di Salvo, perché appunto fa una vita un po' estrema, nel senso che lavora di notte, lavora di giorno, fa kickboxing, fa il papà perché comunque ha due figli. Quello è peggio di fare kickboxing. Quello è più impegnativo. Ma un briciolo di tempo libero riesci a trovare? Beh, insomma, con grande fatica però spesso ci provo e ci riesco. E ovviamente quando ho un po' di tempo libero lo passo con i miei figli oppure facendo un po' di sport. Perché penso che lo sport sia anche qualcosa che ti ricarica, ti rigenera. E ti consente anche di utilizzare il tuo corpo chiedendogli dei sacrifici. E quindi qualche giorno libero ce l'ho. Di solito ho delle settimane molto impegnate, molto complicate. Che cerco di schivare, diciamo, perché durante l'anno sono tante puntate e mi manderei tre. Sono 280 puntate e 15 di prima dell'alba. Voi pensate che prima dell'alba per girare una puntata ci vogliono quattro settimane perché sono cinque storie diverse. Quindi immaginate, fatevi un po' due conti. Facciamo una piccola pausa qui dal Caffè della Versiliana. Torniamo subito con Salvo Sottile. Grazie. A tra poco. Ben ritrovati qui dal Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta. Siamo con Salvo Sottile. Stiamo presentando il libro Notte Fonda, edito da Rai Libri. Salvo, quanto è importante la curiosità per chi svolge un lavoro come il tuo? È fondamentale. Non puoi fare questo lavoro senza essere curioso. Perché credo che anche il lavoro che fai in televisione, sui libri, raccontando storie, scrivendo storie, raccontando storie in televisione, abbia un filo strettissimo, un rapporto molto stretto con la voglia di raccontare il reale, raccontare il mondo per quello che è. Io, devo dirti, sono stato fortunato perché a Rai 3 ho avuto la possibilità di sperimentare, prima dell'alba, che è un programma molto particolare. Non tutti raccontano la notte, non tutti lo fanno, oppure lo fanno in altre maniere. Noi cerchiamo di trovare sempre storie curiose, storie anche di lavoro. Che ne so, il lampionario che cambia le lampadine ai lampioni di notte, spesso non ci pensiamo. Eppure ha una sua poesia anche questo, l'uomo che cerca di scavare la cassa di un violino per cercare il giusto compromesso tra il rumore e il suono e aspetta la lama di luce per avere la giusta curvatura del legno. Sono delle cose diverse, che però fanno parte della notte. Una notte che non è più come la pensiamo, cioè fatta solo di sonni o di pericoli, ma fatta anche di lavori. Nel libro cito per esempio il più grande stabilimento Amazon che c'è in Italia, Passo Corese, dove uomini e macchine lavorano gomito a gomito. Anzi, forse gli uomini lavorano per le macchine, in realtà non è più come nei film di fantascienza. E il personaggio del mio libro è un personaggio che ha una vita distrutta, ha perso il lavoro perché con la crisi che c'è la sua tipografia ha chiuso. E si vede completamente perduto. Perduto perché la moglie l'ha lasciato, perché è ospite di un collega e da quel collega cerca di non chiedere niente. Però è ospite e quindi quando arriva una pizza il sabato sera la guarda con una certa invidia, con un po' di fame, è diventato bulimico. Poi si accorge, grazie a questa galleria di personaggi, a dei giri che farà con me, che esiste questo mondo di Amazon. Che è un mondo incredibile se ci pensiamo. Perché ormai siamo abituati a chiedere, ad avere tutto con un click. Ordiniamo un oggetto, ordiniamo qualcosa, ci arriva nel tempo di mezza giornata, forse di una giornata. Il prezzo, perché noi abbiamo tutto questo, è che c'è qualcuno che impacchetta velocemente quel pezzo, lo manda, lo spedisce. E non è che avrà un premio alla fine. Viene monitorata la velocità con cui lavora e al massimo può guadagnare una serie di colazioni gratis. Non ha soldi in più. Ma soprattutto c'è una cosa fondamentale. Ad Amazon possono lavorare anche persone di 55 anni, di 56, di 58. C'è i cosiddetti esodati. Cristiano, il protagonista del mio libro, lo vedrete, a un certo punto scopre la possibilità di reinventarsi una vita. Una vita che passa per un lavoro nuovo, completamente nuovo, che gli chiede dei sacrifici, indubbiamente, perché lavorare di notte non è facile, ma che gli dà la possibilità di intravedere una speranza. Ecco, questa notte che racconto nel romanzo è una notte con una serie di specchi, di stagni, in cui ogni personaggio si riflette e cerca di capire davvero cosa ha dentro. Quando ho iniziato io a fare il giornalista, vi confesso che andavo in giro con un bespino ai tempi in cui facevo l'operatore per le piccole televisioni locali e si cercava di avere più notizie possibili andando dai carabinieri e negli ospedali. All'epoca non c'erano i cellulari, andavo in giro con una busta del supermercato piena di gettoni telefonici, perché alla prima cabina si chiamava qualcuno, qualche giornale, e si dava la notizia. Oggi, se ci pensate, i giornali rischiano di fare la fine delle cabine telefoniche, perché ormai qualunque giornale esce ci sarà sempre un cellulare che sarà sempre più aggiornato. Quindi il problema qual è? Che il mondo del lavoro è cambiato, ma è anche cambiato il modo di raccontare il mondo. Probabilmente la televisione oggi è ancora piena di programmi a quell'ora, ma forse diventerà un giorno un contenitore dove tu puoi guardarti i programmi dove vuoi e all'ora che vuoi. E forse saranno programmi che passeranno sempre per questi benedetti cellulari. Ecco, Salvo, proprio del tuo esordio giornalistico, ma anche di qualche anno prima vorrei chiederti una cosa. Tuo padre, giornalista famoso, era spesso lontano da casa e tu avevi cominciato un po' anche a detestare quel tipo di lavoro perché te lo portava via. Oggi tu hai due figli e sei molto impegnato nel mondo del lavoro. Non temi che anche loro possano essere, se non altro, un po' guardinghi nei confronti del lavoro? Sì, certo, perché quando ho iniziato a fare questo mestiere, io odiavo questo mestiere in realtà, perché mio padre non c'era mai quando ero piccolo, erano gli anni della guerra di mafia, negli anni 70. Mio padre faceva il giornalista in un piccolo giornale di cronaca di Palermo, glorioso, si chiamava Lora, Lora di Palermo. Quindi non c'era mai, ogni volta che dovevamo andare al cinema, al circo, alle cose che fanno i bambini, mi mollava sempre perché chiamava qualcuno e gli diceva hanno ammazzato questo, hanno ammazzato questo, devi correre. E quindi io questo mestiere un po' lo detestavo. Allora, siccome mi ricordo di questa cosa, ogni volta che i miei figli cercano di capire che mestiere faccio, perché ancora non lo hanno ben chiaro, cerco di tornare ogni giorno da loro per dargli la possibilità non solo di avere un papà, ma di spiegargli anche perché il papà non c'è di notte, perché sarebbe complicato. Ricordo alcune delle cose che hai fatto. C'è stato un caporedattore della cronaca TG5, conduttore di Sky TG24, conduttore di quarto grado e quinta colonna, sulla 7 hai condotto Linea Gialla, in Rai, domenica in, la vita in diretta, mi manda Rai 3, oggi prima dell'alba. C'è qualcuno di questi programmi o di queste esperienze che ti è rimasta più nel cuore? Beh, certamente quarto grado, perché quarto grado è stato un programma che mi sono cucito sulla mia pelle, dopo anni di conduzione al telegiornale mi chiesero a un certo punto se potevo lavorare con una serie di autori e a un programma che fosse, come dire, il contrapasso rispetto a chi l'ha visto su Rai 3. E quindi iniziai a pensare a questo programma come a un programma che potesse essere anche un modo per cercare di dare una chiave di lettura diversa del mondo, della realtà, a proposito della curiosità. Quarto grado ebbe un successo clamoroso in quegli anni, era il 2011, perché quell'anno ci furono una serie di casi che presero l'opinione pubblica, ma come in tutte le cose anche la cronaca era diventata quasi un'ossessione per molti programmi, iniziò a essere diluita nei programmi della mattina, del pomeriggio, della sera e io a un certo punto avevo la sensazione di ripetere un po' me stesso, cioè quello che succede con la cronaca nera non so se ci avete fatto caso, è quello che succede ai bambini con la favola di Cappuccetto Rosso ogni volta che si racconta una storia la si racconta da capo e la ascolti tutte le volte ogni volta che c'era una novità su un caso di cronaca mi chiedevano di raccontare quella storia dall'inizio e quindi gli ospiti, gli opinionisti molto bravi eccetera alla fine finivano per fare i tuttologi cioè quelli che dicevano tutto e il contrario di tutto e quindi a un certo punto ho cercato di, così come avevo immaginato quarto grado ho cercato di uscire fuori da questa bolla perché in questo programma, che poi era un programma mi ha dato moltissimo, mi ha dato popolarità, ho avuto delle persone accanto con cui ho lavorato a cui voglio bene e siamo rimasti in ottimi rapporti ma finivo per pensare solo ai morti e alle famiglie vedevo con dolore che dietro le storie di queste vittime c'era tutta una sorta di fabbrica del dolore con ospiti che cercavano di raggranellare i quattrini e quindi a un certo punto ho deciso di smettere con la cronaca nera, di lasciare e di tenere di quarto grado la cosa più bella che era appunto il ricordo della notte perché quarto grado andava di notte e quindi attraverso la notte di quarto grado poi ho cercato di lavorare su un altro programma che è appunto Prima dell'Alba Salvo, il tuo nonno è stato capo stazione a Cefalù tuo padre, l'abbiamo nominato poco fa, giornalista quanto è stato importante per te attingere dalle esperienze familiari cioè ti hanno fatto da guida, sono state fonte di ispirazione beh io sono cresciuto in un piccolo paesino sul mare quando ero piccolo proprio perché i miei genitori lavoravano tutti e due che si chiama Cefalù che è in provincia di Palermo bellissimo paesino mio nonno faceva il capo stazione nella stazione di Cefalù e quindi vedevo questi treni che passavano io volevo fare il capo stazione come mio nonno perché mi faceva muovere gli scambi mi faceva vedere all'epoca i treni già in Sicilia adesso ci mettono otto ore per fare Palermo-Catania pensate quanto ci mettevano allora e quindi quando vedevo questi treni che c'era fuori dalla stazione di Cefalù una galleria ogni volta che c'era questa galleria io chiedevo a mio nonno dove vanno questi treni e lui mi diceva entrano nella galleria e vanno in continente e quindi io immaginavo che il continente fosse fuori dalla galleria e tutte le notti volevo andare fuori dal tunnel pensando che ci fosse l'Italia dietro quel tunnel poi insomma con gli anni ho capito che non era così e da tuo padre che ispirazione hai avuto professionale? cioè hai provato magari a raccogliere qualcosa della sua esperienza? no mio padre è stato un grande cronista quindi quello che ho imparato da lui è stato il rigore lo scrupolo nel cercare la verità delle notizie di non accontentarsi mai di quello che ti veniva dato ma di cercare sempre qualcosa in più per dare al lettore nel mio caso il telespettatore qualcosa di diverso proprio perché mio padre aveva con il lettore, con il giornale un rapporto, un patto non scritto di fiducia quella fiducia che spesso molti giornalisti tradiscono ma tradiscono perché magari hanno fretta o fanno loro malgrado il loro lavoro in maniera veloce e quindi non possono curare il dettaglio io penso che curare il prodotto sia come dire non solo una forma di rispetto verso il lettore o il telespettatore ma ne va anche della tua credibilità stavi dicendo poco fa una cosa molto interessante ossia che il telefonino comunque sarà sempre più aggiornato di un qualunque giornale quotidiano o anche portale online dedicato alla notizia consiglieresti oggi il mestiere di giornalista a un ragazzo? no, assolutamente no perché nel momento in cui noi abbiamo fatto questo mestiere io ho iniziato 30 anni fa era un mondo completamente diverso oggi è un mestiere inflazionato c'è pochissima offerta e moltissima domanda quindi è ovvio che ormai chiunque può fare il giornalista di se stesso o raccontare e anche le persone vedete per esempio i politici cercano di bypassare il mestiere voi lo vedete chi vuole parlare i grandi politici anche il ministro dell'interno Salvini per citarne uno fa una diretta Facebook quando vuole dire qualcosa e bypassa direttamente il mezzo di comunicazione segno che la politica è cambiata ma è cambiato anche il modo di raccontarla non c'è più l'abitudine di andare in edicola per vedere un retroscena o per capire che cosa succederà ormai i social fanno parte della nostra vita fanno parte del nostro mondo bene o male bisogna averci a che fare io credo che siano come l'antibiotico cioè giusto usarne un po' se se ne usa un po' troppo diventa dannoso ancora una piccola pausa qui dal Caffè della Versiliana poi torniamo subito con Salvo Sottile a tra poco ben ritrovati dal Caffè della Versiliana palco Romano Battaglia siamo assieme a Salvo Sottile per presentare il libro Notte Fonda edito da Rai Libri stiamo anche un po' facendoci gli affari di Salvo andando a conoscere il personaggio non soltanto professionalmente ma per approfondire la sfera professionale Salvo parlando della tua realtà giornalistica recentemente sei andato anche a parlare della mafia foggiana a raccontare ciò che è successo al ponte Morandi di Genova per la tua incolumità ti sei mai sentito minacciato per il tipo di inchieste che fai? beh sì ovviamente sì soprattutto negli anni in cui iniziai a fare il giornalista di cronaca in Sicilia negli anni della morte di Falcone Borsellino perché quegli anni furono degli anni tosti tosti per chi viveva lì tosti per chi ci lavorava quando uccisero Falcone si pensava che dopo questo attentato non si potesse fare altro in realtà due mesi dopo uccisero Paolo Borsellino nella strage di Via D'Amelio quindi avevamo la sensazione di avere il fiato sul collo da parte dei corleonesi di Riina Riina era una specie di matto che aveva deciso di dare l'assalto allo Stato esportando la sua violenza e il suo orrore la sua dittatura anche fuori dalle porte della Sicilia era un capo mafia li chiamavano in siciliano perincritati i piedi sporchi di fango perché scendevano dalle montagne verso la città per conquistarla questa città e in realtà avevano fatto fuori tutti i capi della mafia storica la mafia tra virgolette pacifica che pensava solo agli affari e aveva ancora un codice in realtà i corleonesi di Riina codici non ne avevano erano mafiosi che uccidevano i bambini sciogliendoli nell'acido mettevano sulle graticole uomini di cui si volevano liberare e anche sui giornalisti avevano una pressione particolare io non ero come i giornalisti che arrivavano in Sicilia e poi ripartivano dopo aver fatto un servizio io dovevo vivere lì mia mamma lavorava lì mio papà lavorava lì e quindi sentivo questa pressione addosso e ovviamente la paura era qualcosa con cui facevo i conti tutti i giorni anche perché in Sicilia bisognava interpretare anche certe cose che ti dicevano e tutti mi dicevano ma perché devi scrivere di mafia così bella la Sicilia parla di turismo poi in realtà io continuavo a scrivere di mafia e quindi quegli anni sono stato lì ho resistito finché poi a un certo punto si è esaurita quella parabola e ho scelto di andare a Roma e fare l'inviato poi in Afghanistan e in Iraq e di continuare poi la carriera in un altro modo come conduttore del telegiornale e poi di programmi Prima hai parlato della fabbrica del dolore e ti faccio una domanda proprio riguardo la televisione italiana non però riferita ai programmi che hai condotto te ti faccio alcuni nomi Yara Gambirasio Roberta Ragusa il delitto di Cogno la strage di Erba potrebbero essere esempi ecco come si fa a confezionare un programma televisivo cercando di non scivolare troppo nella morbosità è quello il rischio cioè il programma televisivo di cronaca deve raccontare un fatto spesso a volte è capitato che nella ricerca della chiave giusta è capitato anche a me non sono immune da errori ma spesso nella ricerca della chiave giusta scappa la mano cioè hai la tendenza a guardare dal buco della seratura e quello è sbagliato perché offende le vittime non ha rispetto per le vittime però a volte l'idea che tu puoi aggiungere dei particolari non sei mai contento della verità che c'è perché un conto è la verità processuale poi c'è la verità reale nei programmi di cronaca conta più la verità processuale poi la verità reale ha poca importanza perché iniziano a fare la differenza gli indizi le prove le tesi le accuse le difese le perizie finisci per parlare di un altro mondo cioè esporti il tribunale o l'ufficio giudiziario di cui non si ha contezza in tv facendo in modo che sia il pubblico poi il giudice non il giudice vero quindi è come un po' sostituirsi alla giustizia ordinaria cercando di ovviamente di tenere sempre i remi in barca di tenere sempre i piedi piantati per terra in realtà la giustizia è una cosa seria e ovviamente si può criticare l'operato dei magistrati o non si può criticare però bisogna avere rispetto per le sentenze quello senza dubbio e secondo me la televisione spesso cerca di come dire non di sostituirsi ma di dare una visione della giustizia che è inevitabilmente giocoforza falsata perché nel momento in cui tu hai spingi verso una tesi cerchi di portare acqua al mulino di uno o al mulino di un altro quindi è molto molto delicato il lavoro che si fa in televisione soprattutto sugli atti processuali prima dicevi la politica è cambiata è cambiata anche il modo di raccontarla perché non ce lo immagineremmo mai Andreotti farsi un selfie o parlare attraverso i social secondo te il valore delle istituzioni è cambiato oggi rispetto al periodo chiamiamolo della prima repubblica oggi la prima repubblica non sopravviverebbe nel mondo di oggi perché appunto è un mondo cambiato è cambiato il mondo della politica è cambiato il modo di raccontarla oggi c'è stato chi ha capito che la politica è un'altra cosa cioè che si come dire si deve fare presa su altri argomenti per cercare di conquistare il pubblico e certamente i telegiornali non bastano più i giornali come dicevamo prima non sono più sufficienti ovviamente i social tendono a ingigantire ogni cosa anche la notizia e anche l'umore perché poi spesso le decisioni più grandi si prendono di pancia io mi ricordo cosa è successo ultimamente su quel carabiniere che è stato ucciso a Roma a un certo punto qualcuno sui social è iniziato a dire che erano stati degli immigrati no è partita una come dire un'orda di insulti verso gli immigrati gli africani devono morire devono stare devono essere sparati tutti fuori poi si scopre che erano due americani e tutta questa questa ondata di odio improvvisamente si è spenta questo per farti capire perché in quel caso c'è stato proprio un gioco forse anche strumentale sul termine extracomunitario in quanto è vero che gli americani sono extracomunitari sì però era stato detto che erano neri all'inizio sì 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 ma si è giocato un po' su entrambi i termini e quindi lì si è aperto poi magari ci saranno anche i criminali tra gli extracomunitari però quello non era sicuramente un delitto fatto da gente che era sbarcata eppure ecco perché spesso dico ci si muove di pancia perché quella roba degli sbarchi dei clandestini che devono stare fuori che non devono più arrivare eccetera ci disturba più così tanto che abbiamo bisogno di vederli ovunque anche lì sulla scena di un delitto di cui non si sa nulla non c'è niente di meno chiaro di questa storia del carabiniere secondo me che non è stata ancora raccontata non si capisce perché i carabinieri non avevano le pistole per esempio d'ordinanza non si capisce perché non sono intervenuti subito gli altri carabinieri cioè le domande intorno se io fossi un giornalista di cronaca le domande che mi farei su questo delitto sono altre non penserei a come dire strapparmi i capelli per sapere se sono extracomunitari o americani è stato ucciso un servitore dello Stato un carabinieri bisogna sapere la verità ci stiamo beh l'applauso ci sta tutto ci stiamo avvicinando come dico spesso allo striscione dell'ultimo chilometro poi salvo si dedicherà al firma copie del libro un paio di domande te le storco ancora vorrei sapere di che cosa ti stai occupando adesso e quali sono i progetti futuri adesso sto girando per il libro insomma per tutta Italia e tra poche insomma inizio a girare le nuove puntate di Prima dell'Alba che sarà in onda a ottobre proprio per quello che dicevo prima per girare una puntata ci vogliono tante settimane quindi ad agosto cominciamo e gireremo le prime puntate della nuova stagione che andrà in onda su Rai 3 a ottobre in seconda serata e poi dal 9 settembre torno in diretta con Mi manda Rai 3 con un'edizione rinnovata ancora più dalla parte del consumatore ancora più dalla parte della gente allora io preparo la penna ma non tanto per il tuo firma copie ma perché una volta in televisione e con questo ci salutiamo sparasti tre cifre a casaccio parlando dell'otto e nonostante il calcolo delle probabilità zeccasti questi numeri che poi uscirono sulle ruote mi chiamò Antonio Ricci striscia la notizia mi disse guarda che i numeri che hai dato a Mi Mandarei 3 che io avevo dato ovviamente giocando non avendo capacità divinatorie sono usciti allora ho detto ma come è possibile dice no guarda vai a controllare avevano vinto un sacco di persone e quindi guarda io ho la penna pronta perché parlavo delle truffe di quelli che che giocano sull'otto invece avevo dato tre numeri e dissi è come se io dicessi che il 17 il 24 il 41 escono e poi escono il giorno dopo erano usciti gente l'aveva giocati e quindi non ti mandiamo via se non ci dai tre numeri anche stasera li ho appena dati 17 21 24 24 e 41 17 24 poi mi fate sapere se avete vinto e dividiamo ovviamente va bene grazie mille salvo sottile grazie grazie a te salvo grazie grazie a te salvo grazie a te salvo